buonasera a tutti e bentornati al torneo pezzona over 50 in campo ora l'atletico madrid in maglia bianca e rossa dall'altra parte lo sciacche 04 abbattuto l'atletico iniziato ora il match dovuto ragazzi dell'atletico provano a salire palla al piede rimessa laterale atletico battuta ora velocemente il passaggio sulla fascia opposta di celletti poi il tocco in avanti per l'atletico il tiro in due tempi non riesce poi a bloccare ma la calcio di punizione è in attacco sul tiro di savelloni ottimo intuito qui della portiere in due tempi a bloccare messo dal fondo dimito lungo il pallone per cannone che si ferma poi il tocco sulla destra viene bloccato poi il tiro verso la porta che parata palermo che mette in calcio d'angolo rimessa dal fondo sciacche 04 il pallone giocato da dimito passaggio di cannone sulla sinistra il pallone è buono riesce a salire lo sciacche con vitale che prova il tiro verso la porta parata di palermo poi ancora un altro tiro facile per palermo questo secondo tiro figurelli poi il tocco per mastro donato la destra catorna poi il passaggio indietro per numero 52 che allarga poi sulla sinistra centro campo rischia qui l'atletico poi riesce a riconquistare mastro donato il cross in avanti sabatini il passaggio veloce il tiro verso la porta di catorna mette in calcio d'angolo dimmi gioca vicino baroncini poi la passaggio vera dimmito cannone tocca al centro si cambia fascia che prova a salire palla al piede il passaggio per cannone buono però per vitale che si gira davanti al portiere il tiro ancora la palla al centro dell'aria viene messa fuori grande occasione per lo sciacche calcio di punizione sciacche 04 in una zona d'attacco secondo palo di testa occhino pallone fuori finisce quel primo tempo rimessa dal fondo sciacche 04 con dimmito fa lungo pallone sulla sinistra è buono per mosca che ha una strada prova a mettere al centro il tiro alto per lo sciacche un ottima occasione sprecata qui la vita rimessa dal fondo radico madrid pallone a centrocampo buono sulla destra il tocco poi intercettato allo sciacche può ripartire con viola palla al piede allarga sulla propria destra tocco per pontesilli che riesce a superare la difesa avversaria poi il tiro verso la porta fuori veramente di poco una deviazione sarà calcio d'angolo rimessa laterale in zona di difesa per l'atratico madrid ma stradonato il pallone giocato su celletti poi la crosso lungo di passa centrocampo pallone però intercettato dallo sciacche con vitale che tiro in porta la parata di palermo poi il calcio di punizione per l'atratico riparte ora il secondo tempo atletico madrid sciacche 0 4 0 a 0 il parziale pallone giocato dallo sciacche ora in avanti il cross di temito direttamente sulle mani di palermo sciacche 0 4 dal basso con i propri difensori per impostare l'azione ripassando direttamente da temito prova il cross lungo per pochino che è in gioco tiene il tiro verso la porta la gran parata di palermo calcio di punizione sciacche 0 4 sul pallone di mito portiere prova il tiro verso la porta palermo in due tempi riesce a bloccare sciacche 0 4 che riparte da di mito cerca i compagni in attacco il portiere poi il tocco sbagliato qui regala il pallone a di mito che prova il tiro verso la porta fuori veramente di poco la tocca di mito a calcio d'angolo per l'atletico madrid lungo poi il tocco di testa facile di viola per il proprio portiere ha intercettato il filtrante di viola dall'altra parte subito l'atletico che sale con il passaggio di celletti al centro dell'aria non trova i compagni e poi lo sciacche in avanti cerca la imbucata Ponte Silli che prova a entrare nell'aria poi viene messo giù non c'è fallo il VAR è stata cambiata la decisione dall'arbitro calcio di rigore per lo sciacche 0 4 sul pallone ora Ponte Silli si aspetta il fischio dell'arbitro numero 14 nella rincorsa poi il tiro verso la porta e il gol dello sciacche 0 4 che si porta in vantaggio quando mancano meno di 4 minuti alla fine del match 1 a 0 sciacche dal basso Palermo gioca il pallone sulla propria difesa quasi finito il tempo di recupero 4 minuti hanno stagliato dal direttore di gara finisce qui passa lo sciacche 0 4 una vittoria di 1 a 0 sull'Atletico Madrid non può nulla l'Atletico sul gol del numero 14 Ponte Silli su rigore buona serata buona sera siamo con presidente allenatore dello Schalke che ha conquistato questa vittoria all'ultimo sofferta combattuta com'è andata questa partita? è andata che ci abbiamo avuto un campionato molto tribolato da gennaio di media 10-12 infortuni a partita siamo arrivati ai test ultimi probabilmente non meritavamo ma abbiamo giocato partite veramente rimaneggiati finalmente dopo tanto tempo torna una squadra decente con quasi tutti i titolari anche se un paio di persone stanno ancora fuori conosciamo molto bene l'Atletico sappiamo che era una partita molto molto difficile credo abbiamo vinto meritatamente perché comunque abbiamo sfruttato il potenziale dei nostri giocatori mi spiega solamente chi purtroppo non è potuto scendere in campo però ho visto che ci siamo abbracciati di questa cosa ne abbiamo parlato prima ci hanno fatti complimenti anche l'Atletico quella che è diciamo una vittoria meritata perché comunque abbiamo avuto almeno 8 occasioni di chieda goal potevano segnare anche loro per carità comunque chieda è stata preparata bene prima ne abbiamo parlato già da giorni con la squadra che doveva scendere in campo e niente ce l'abbiamo fatta mi dico solo una cosa così terminiamo e andiamo a fare la doccia mando solo un messaggio a tutti è arrivato del sultimo ma lo Schalke c'è è tornato lo Schalke c'è siamo sempre finalisti del Pessana Pessivo perfetto allora buona fortuna grazie grazie mille buona serata